Ultimato il primo lotto dei lavori per la sostituzione della pavimentazione in pietrini di cemento esistenti con l'aste di basalto in Largo San Francesco proprio avanti alla Torre di San Giovanni. L'opera, al Via Maggio, è interessato all'allargamento dei marciapiedi con la creazione di una piccola piazza e proseguirà con la sistemazione dello slargo adecente alla Torre di Portaterra. Il progetto definitivo prosegue l'opera di ripavimentazione con la stessa tipologia utilizzata nei bastioni in Piazza Sulis e proseguirà con tutta probabilità